Appunto questa sinergia con la natura quest'anno prende proprio il suo significato bene, perché la mostra quest'anno si impronta alberi, che sono il soggetto principale del parco. Negli anni precedenti è sempre stato tutto riferito al parco, però non abbiamo mai nominato il soggetto, il soggetto che fa un parco sono gli alberi, quindi mi sembrava giusto quest'anno prendere omaggio al soggetto e quindi dedicare proprio il nome della mostra a loro.